Il Ministero delle Politiche Agricole ha dichiarato lo stato di calamità per alcuni territori della provincia di Taranto a causa dei danni causati alle produzioni agricole dalla xylella fastidiosa. Ad annunciarlo è Col Diretti Puglia. Sentiamo. Il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto il carattere di eccezionalità delle infezioni di xylella fastidiosa dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i danni causati alle produzioni nei territori agricoli dei comuni in provincia di Taranto, nello specifico ad Avetrana, Manduria, Marugio e Sava. Lo ha dichiarato Col Diretti Puglia riferendosi al decreto di declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità avanzata dall'assessorato regionale all'agricoltura a marzo scorso. Secondo il Presidente della Col Diretti regionale, Savino Muraglia, continua la virata e l'avanzata della malattia sul fronte tarantino verso Matera e ciò rende ancora più necessario che gli agricoltori abbiano sostegni concreti e la possibilità di diversificare le attività culturali per garantirsi un futuro imprenditoriale realistico. L'evoluzione della batteriosi pare si sia spostata più ad ovest rispetto ai precedenti aggiornamenti con 314 ulteriori ulivi infetti in un anno di monitoraggio. In base alla elaborazione di dati Sian, ha spiegato Col Diretti Puglia, da quando è stata confermata la presenza della xylella fastidiosa in Salento, la produzione di olio ha subito un trend negativo, con il minimo storico di 3.979 tonnellate prodotte nell'ultima campagna 2019-2020 a Lecce con una diminuzione dell'80%, mentre a Brindisi la produzione di olio è diminuita del 16% e del 4% in provincia di Taranto. Inoltre ci sono già 21 milioni di piante infette, una strage di olivi e un danno al settore olivicolo stimato per difetto di 1,6 miliardi. Grazie a tutti.